Noi tutti sappiamo che nel tessile, nell'abbigliamento e nella biancheria l'etichettatura è obbligatoria, ma non tutti sanno cosa deve essere indicato tassativamente in ogni capo e che l'obbligo grava sia su chi produce, sia su chi distribuisce, sia su chi vende al dettaglio. Secondo la normativa europea ed italiana, due sono gli obblighi fondamentali. La composizione fibrosa in percentuale che deve essere in lingua italiana ed in ordine decrescente. Nome, ragione sociale o marchio registrato e indirizzo completo del responsabile dell'immissione sul mercato, che coincide col produttore europeo o con l'importatore se i prodotti sono di paesi terzi. Ogni singolo consumatore deve pretendere queste semplici indicazioni in ogni capo che acquista. Per non trovarsi di fronte a spiacevoli sorprese e alle sanzioni previste per chi non rispetta gli obblighi, contattate l'ufficio metrologia legale e sicurezza prodotti della Camera di commercio in via Orcania 70 a Firenze, oppure via mail a attività.ispettive chiocciolafi.camcom.it oppure telefonando allo 055 66 42 64.